Vi ricordate su Italia 1 una trasmissione che faceva Papi? Che partiva la musica e dalla base bisogna indovinare la canzone? E vediamo se ci riusciamo adesso. Prima battuta, vai maestro! Aramao perché sei morto? Aramao perché sei morto? Niente? Niente? Allora facciamo due battute, due battute. Questa è la canzone di... Ah, ah, ah! Il titolo Max Gansè? Sotto casa? Sotto casa? Di chi è? Di chi? Sotto casa tua? Per noi c'è Max Gansè sotto casa tua. Vediamo un po' chi si riuscita a Max Gansè il titolo? La vita? La vita? La vita? La vita è bella! Eh sì, la vita è bella! La vita è bella! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso ci sono i fuochi Piro Tecnici Grazie signori Ce l'avete accorto benissimo Grazie di voi Bravi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti